Il risultato di straordinaria rilevanza in tema di urbanistica, di ambiente e anche di corpo forestale. Norme importanti in materia urbanistica per il finanziamento dei nuovi piani urbanistici generali che sostituiscono i vecchi piani regolatori generali e anche per norme che finanziano i comuni con stanziamento di 500.000 euro al fine di eliminare tutte le pratiche legate al sanatorio e soprattutto stabilire che ciò che non si può sanare, tema della certezza del diritto molto caro al governo Musmeci, va demolito con finanziamento del tal senso. Un altro articolo che prevede uno stanziamento di 500.000 euro per l'eliminazione dei rifiuti sulle coste e per l'eliminazione di quei manufatti, di quegli immobili che possono anche solo potenzialmente costituire un documento per la pubblica incolumità. Ancora in tema di corpo forestale stiamo lavorando ad una norma che è già stata approvata ma adesso dovremmo passare agli atti conseguenziali, legate a sistemi innovativi che possono prevenire gli incendi seguendo le fonti di calore.